Peppa è nel negozio del signor Pony Il signor Pony è un ottico Benvenuta, cara Peppa! Prego, accomodati! Allora, che cosa posso fare per te? Vorrei fare un esame della vista, per favore Ma certamente! Allora, metti questi occhiali speciali e poi guarda il cartello Il signor Pony controlla la vista di Peppa Prova a leggere queste lettere dall'alto Sì, va bene A, B, C, D, E, F Bene! Adesso questi numeri, per favore Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Molto bene! E ora questi colori, per favore Rosso, verde, arancione, blu, giallo, viola Bravissima! Mentre controllo i risultati, ti andrebbe di scegliere una montatura? Sì, che bello! Che ne dici di questa montatura? Ah, è buffa! E questi occhiali? Che ne dici, Peppa? Sono troppo grandi! E questi, invece? Sì, questi occhiali sì che mi piacciono, mamma! Sì, Peppa, ti stanno una meraviglia! Eh sì, mi stanno una meraviglia! Buone notizie! Buone notizie! La nostra Peppa ha una vista perfetta! Oh, allora non ho bisogno degli occhiali! No! Peccato, perché io li volevo tanto, questi occhiali! Oh! Allora che ne diresti se montassi delle lenti da sole? Evviva! Sì, degli occhiali da sole! Ecco fatto! Una meraviglia! Spero che ci sia il sole tutti i giorni! Così potrò sempre mettere i miei meravigliosi occhiali da sole! Oh!